Sapete, la lezione di oggi potrebbe essere una delle più utili che abbiate mai imparato. È decisamente quella che mi è stata più utile. Si tratta di una carta plastificata, che io chiamo la Gold Card. Ne ho distribuite milioni. E funziona così. Scegliete il vostro obiettivo principale, la cima della montagna che state scalando. L'obiettivo che vi dà la motivazione per continuare. Escrivetelo sulla carta. Dovete scriverlo utilizzando il tempo presente. Qualcosa tipo, sono così felice e grato ora che... Scrivendolo al presente avrete l'impressione di averlo già ottenuto. Mentre lo scrivete potete vivere chiaramente questa emozione nella vostra mente conscia. E se potete visualizzarlo nella vostra mente potreste anche condividerlo con me. Differentemente non sarebbe possibile. Per la vostra mente sarà reale. Anni prima della nascita di Cristo, Orazio diceva... Nemo dat quod non habet. Che significa, non puoi dare quello che non hai. Penso che Orazio avesse ragione, ma ovviamente è anche vero il contrario. Puoi dare quello che hai. Se ho un'immagine in testa per via della mia coscienza o della mia educazione, posso condividerla con voi attraverso le parole, i gesti e la scrittura. A quel punto anche voi sareste emozionalmente coinvolti con questa idea. Questo è quello che voglio che succeda. Voglio che piantate l'idea che desiderate a livello emozionale nella vostra mente inconscia. Nell'antica Grecia si pensava che il cuore risiedesse nel cervello. Solomone diceva, le persone pensano con il cuore. Una volta che siete emotivamente coinvolti, potete condividere questa cosa a livello vibrazionale con le persone attorno a voi. A quel punto basta solo del tempo, prima che quell'idea prenda forma, dato che l'avete già fatta vostra intellettualmente ed emozionalmente. Si trasformerà in realtà. È una legge assoluta. Se pianti un seme di carota nel terreno e lo concimi, lo curi, strapi le erbacce, sai che dopo un po' di tempo lì crescerà una carota. Da dove vengo ci vogliono circa 70 giorni. Adesso abbiamo imparato che per quanto riguarda il piantare un'idea, non sappiamo quanto tempo ci voglia realizzarla. Non possiamo stabilire una data precisa, ma possiamo avere un'idea vaga di quanto tempo ci voglia e possiamo fornire all'idea tutto quello di cui ha bisogno per crescere e formarsi nella realtà. Ora dovete portare questa carta in tasca o in borsa. Perché? Beh, ogni volta che toccherete la carta, il vostro senso del tatto manderà un segnale al sistema nervoso centrale che vi riporterà alla mente quell'idea e bang! Vi illuminerete. Avevate l'idea impressa chiaramente in mente quando l'avete scritta. Perché scrivere prevede un pensiero e questo pensiero si ripresenterà ogni volta che toccherete la carta. Quell'immagine tornerà direttamente alla vostra mente. Come accendere una lampadina? Decidete cosa volete veramente fare. Decidete il vostro obiettivo e scrivetelo su una carta, al presente. Sono così felice e grato adesso che avete già ottenuto il vostro risultato intellettualmente ed emotivamente. E ci vorrà solo un po' di tempo prima che quest'idea si materializzi nella realtà. Le persone che non capiscono questo concetto sono persone che non hanno mai apprezzato il mondo fisico. Ma per voi, ogni volta che toccherete la carta, si accenderà un interruttore e le luci nella vostra mente si accenderanno. Vi renderà felice, vi darà la spinta, vi renderà in salute e anche molto ricchi. Fatelo! 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 Fatelo!